Abbiate fiducia nella potenza della Croce di Cristo, vi chiedo di portare una testimonianza convincente del messaggio di riconciliazione di Gesù nelle vostre case, nelle vostre comunità e in ogni ambito di vita nazionale. Papa Francesco chiude il suo viaggio apostolico nella Repubblica di Corea nel segno della speranza, auspicando pace e riconciliazione in una nazione che da oltre 60 anni vive l'esperienza della divisione e del conflitto. Nella cattedrale di Myeongdong di Seoul il pontefice ha ricordato che come cristiani siamo chiamati a respingere con fermezza una mentalità fondata sul sospetto, sul contrasto e sulla competizione e a favorire piuttosto una cultura plasmata dall'insegnamento del Vangelo. Ed è il perdono la chiave di volta per procedere verso un futuro di giustizia perché la Croce di Cristo rivela il potere di Dio di colmare ogni divisione, di sanare ogni ferita. Preghiamo dunque per il sorgere di nuove opportunità di dialogo, di incontro e di superamento delle differenze, ha concluso Papa Francesco, per una continua generosità nel fornire assistenza umanitaria a quanti sono nel bisogno e per un riconoscimento sempre più ampio della realtà che tutti i coreani sono fratelli e sorelle, membri di un'unica famiglia e di un unico popolo.